Da domani in argine sinistro a Imperia sarà chiuso al traffico l'altezza del nuovo ponte ferroviario. La chiusura comunicata dal comune si rende necessaria a causa di lavori che interessano una condotta dell'acqua potabile effettuati dall'impresa Sicurbao nell'ambito delle opere connesse al raddoppio della linea ferroviaria Andorra-Salone-Inzalmare. Il traffico proveniente dalla statale 28 diretto a Porto Maurizio sarà deviato sull'argine destro in via Trento, mentre chi è diretto a Oniglia potrà percorrere via Nazionale. Il traffico pesante proveniente sempre dalla 28 verrà incanalato in via Ponte Vecchio e successivamente in via Andreoli per raggiungere poi la rotonda di via Nazionale. Chi invece è diretto sulla statale 28 potrà percorrere via Garessio oppure imboccare l'argine sinistro fino all'incrocio con via Nobel e portarsi quindi in via Garessio. Le auto potranno comunque percorrere l'argine fino all'altezza dell'imbocco di via Calzamiglia-via Spontone. La chiusura della strada durerà, salvo complicazioni, almeno una decina di giorni. La chiusura della strada durerà, salvo complicazioni, almeno una decina di giorni.